Le notizie che arrivano da Bruxelles sono una boccata d'ossigeno fondamentale in un paese, l'Ucraina, in ginocchio dopo 708 giorni di guerra. Ma adesso l'attenzione di Kiev è tutta su cosa faranno gli Stati Uniti dove il rifinanziamento degli aiuti all'Ucraina si è arenato al Congresso. Ho ricevuto messaggi sia da repubblicani che da democratici che il supporto militare e finanziario degli USA non verrà a meno. Il sostegno alla causa ucraina non è in discussione ma devono risolvere alcune questioni politiche interne. Apprezziamo molto la determinazione della leadership europea. Negli ultimi giorni si è fatta insistente la voce di un imminente licenziamento del capo di Stato Maggiore Zaluzhny, molto popolare qui in Ucraina. Secondo queste indiscrezioni il presidente Zelensky ha già in mente il nome di chi sostituirà il capo delle forze armate. È solo propaganda russa. Io non nego che abbiamo problemi interni. Li abbiamo. Abbiamo dei ritardi nell'approvvigionamento delle munizioni al fronte e questo comporta anche un avanzamento dei russi in alcune zone del fronte. La gente si chiede, è stato fatto tutto? Di chi è la responsabilità? Siamo in una società democratica e quindi si discute. C'è poi la questione della nuova legge sul reclutamento. L'esercito ha bisogno di nuove forze. La politica ha il dovere di spiegare che ognuno deve contribuire alla difesa dell'Ucraina. Si rischia di essere impopolari, ma questa è la politica. Questo dibattito viene usato dalla propaganda russa per screditarci. La realtà è che la politica non deve interferire nelle operazioni militari e l'esercito non deve desiderare di essere parte del processo politico, come accade in tutte le democrazie.